Dico due cose in italiano, poi le traduce lui così almeno... Oggi abbiamo fatto una partita di altissimo livello, come potrebbe essere la partita fatta con Milano e con Venezia. Una fisicità impressionante da parte dei francesi. Nel primo quarto sapevamo benissimo cosa fare, ma non siamo riusciti lo stesso a farlo, poi fattivamente. In maniera molto pratica abbiamo avuto più difficoltà. Poi siamo stati molto bravi in attacco a fare quello che volevamo, cioè mettere la palla in post basso per prendere dei tiri con i tiratori, che usavano dei blocchi sia sul lato debole che sul lato forte. E siamo stati molto bravi ad attaccare sempre con la palla in movimento, attaccando l'opposto del pick and roll, attaccando il pick and roll per poi muovere la palla uno o due volte. Senza perdere particolari palloni. La seconda cosa è che difensivamente parlando abbiamo fatto una grande gara, abbiamo alzato il numero dei possessi andando a tutto campo, non li abbiamo fatti schierare perché loro sono una squadra che a metà campo, quando controllano la partita è difficilissimo fermarli e quindi abbiamo alternato queste difese. Mi fa, dando per scontato che non ci siano errori nelle statistiche, mi fa abbastanza impressione che Alessandro Paiola ha giocato 12 minuti e 28 secondi. Sembra che ne avesse giocati 54 minuti e questo è stato veramente importante perché lui e Cornucci hanno cambiato questo aspetto difensivo del tutto campo. Sapevamo che con loro facevamo quello, qualcun altro in campo aspettava un po' di più e credo che sia stata un'arma. L'ultima cosa, prego se vuoi. No, no. Abbiamo spostato questo game a un livello alto come possiamo, come abbiamo fatto con Milano versus Venezia in la domenica. Questo game ha presentato un'impresiva fisica, Strasburg è molto fisica, At the beginning, we know what we want to do, but we can't because of the opponent. But we stay focused and we reach our goal, so attacking in the post, using the weak side and finding the shooters. And we moved very well the ball, one side to side, and especially without losing the ball, it was very important. Defensively, the game was impressive for our side. We didn't let our opponents defend in the half court, which they are really, really good. And we alternate defense that brings us the win. A note, Paola played only 12 minutes, but it seems like he played 54 for the intensity that bring. and he and Cournot changed our game defensively at the beginning of the second quarter and they were the key for us for the win. I know that I'm not happy, but today we're going to play a game defensively at the end of the game. We're going to play a game defensively at the end of the game, but we're going to play a game defensively at the end of the game. We're going to play a game defensively at the end of the game. abbiamo ancora tre partite prima della pausa e aspettiamo poi con calma Kelvin Martin Brian Cuoli piano piano cresce passo dopo passo quindi dobbiamo stringere forti denti ancora per tre gare prima della pausa e prima di resettare tutto e abbiamo assolutamente bisogno di punti domenica quindi adesso siamo tutti contenti poi resettiamo tutti perché domenica qua dobbiamo assolutamente fare la partita più importante I complimented with the team in the locker room because they played really really good but my compliments last until midnight because we have to think about the next game Sunday versus Torino I know that I looks like I'm never satisfied but playing twice a week means that you have to stay focused on the next game and the game with Torino will be very tough we have to stay focused for the next three games before the break because we need points in the domestic league and we have to wait Kelvin Martin from his injury and we have to bring back to the better shape Brian Coley so we have got three games to win and we have to stay focused question for coach sacripanti thanks thank you you thank you thank you Grazie.